San Francisco mi mancava, sicuramente è un'altra atmosfera che però mi piace molto, un altro modo di vivere, diverso dal nostro, però sono posti che vale la pena davvero vedere. San Francisco è una delle poche città che ho visto fuori dall'Italia, nelle quali ho detto se dovessi emigrare un giorno potrebbe essere la città papabile e giusta per venire a vivere, no, perché alla fine è una città molto bella, con tanto verde, tanti spazi, poi ci sono anche delle cose meravigliose, il Golden Gate, il Bridge, la Alcatraz. Un classico giro turistico mi basterebbe, magari un Golden Gate. Un classico giro turistico. Grazie a tutti